ride ma è tragica? non ti dico niente dai sono delle piume ma dove sta? perché? oddio ma lì è bellissimo no è miuk ma si è fatto che cosa sta facendo? ma ci sta facendo mangiare una pianta capretta ah questo è tipo di tunzo mi inquieto ma andiamo a andare bene a qualcuno? sono le mazze ma è periodo di guerra questo che cappellino c'ha Giovanna ha un cappellino sembra mio nonno oh ma sono i paladini loro cosa sta facendo? stai fermo ma perché? ma c'è guardalo ma è tipo bellissimo aiuto sto giocando oh cosa fai? non toccare la faccia per favore per favore ma che bellissimo ma che cazzo è stato? ma stai scherzando? vengo a cercarti a casa lo picchiano chi cazzo? sono soldi le massette le pistole andiamo pesante che non mi chiede a niente stavo ferma starò ferma ma sono tutti nudi quindi guarda qua non è dietro ma sto scherzando che stanno facendo devono piccare ma è una festa stanno facendo un maleficio ma questo lo fanno apposta cioè è proprio ha piccato pure il cuoco ma che bad boy proprio che ansia ok lì c'è tutte le ossa ma buono ma buono quanto è buono ma che piatto sto benissimo con quei capelli anche lui sta bene si è vero questo che sarà? guarda dai aspetta aspetta fammi riazzare a guardarlo quello che è dentro la vasca la bagno morto vai per via si piace morire stai scherzando non puoi essere morto Michela sto giocando sto giocando no senti è lui perché c'è Mignuc cioè deve essere forse lì e la vasca da bar allora senti ecco cosa stanno facendo stanno resuscitando per quello prima stavano facendo la setta e Kyun è in mezzo al fumo buongiorno buongiorno mamma mia mamma mia mamma mia io comunque mi ricordo un pochino guarda che cos'è quella roba ma fa anche fine oh mio dio qualche quindi loro hanno visto questa cosa alienica e finisce il video però ti devo dire che non mi è dispiaciuto questo video mi c'è molto Jungwon tra l'altro c'è anche bagnata nella vasca da bagno appreciate basta addio adesso lo vado a rivederti va bene